Con noi il Gran Maestro del Gran Oriente d'Italia, dottor Stefano Bisi, al Casino di Sanremo per i Mati di Letterari. Un tema particolare, quale libertà di associazione? Un tema di grande attualità sia a livello della persona che della società civile. Un tema di grande attualità perché riguarda la libertà di associazione che può essere messa in pericolo. È una palestra della libertà che fa frequentata ogni giorno. Il rischio di una deriva liberticida c'è. Purtroppo si è visto con i sequestri decisi dalla Commissione parlamentare antimafia nei confronti delle comunioni massoniche. Non va mai dimenticato che il 26 novembre del 25 venne approvata in Parlamento una legge, che era una legge contro la massoneria, ma da lì a poco finirono tutte le libertà dei cittadini. Un pericolo che non vorremmo ricorrere. Lei sta dando alle stampa, appena dato alle stampo, libro importante, Massonofobia. Ce n'era bisogno? Non lo so se ce n'era bisogno. Questo dipende dai lettori, dall'opinione pubblica. Stanno leggendo molto questo libro che racconta la vicenda del sequestro degli elenchi deciso appunto dalla Commissione antimafia. Si racconta un po' la storia di quello che è avvenuto e di questa ingiustizia. In Italia la massoneria ha moltissimi adepti, eppure a livello di normativa si sta preparando una legge che forse proibirebbe ai dipendenti comunali di far parte delle obbedienze massoniche. Come si vive questa cosa per quanto riguarda le due obbedienze e in particolare la sua? Io parlo per il Grande Oriente d'Italia perché non sono il Gran Maestro della massoneria italiana, ma sono il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, che è la più antica, la più numerosa comunione massonica. Nella passata legislatura sono state presentate due proposte di legge che, se approvate, avrebbero impedito ad esempio al premio Nobel Enrico Fermi di far parte del Grande Oriente d'Italia, perché era un professore universitario. Queste due proposte di legge prevedono l'incompatibilità tra l'appartenenza ad una loggia massonica e l'incarico di docente universitario. Le due proposte di legge ricalcano la legge del 26 novembre del 25, quella che era firmata da Benito Mussolini e Alfredo Rocco. Che cos'è oggi essere un appartenente al Grande Oriente d'Italia? Vuol dire credere nella libertà di pensiero, vuol dire credere nell'armonia tra il Tempio interiore e quello che accade nel mondo. Vuol dire tenere accesa una fiamma di libertà, una fiamma di libertà che rimane, rimasta sempre accesa e lo rimarrà per illuminare un ambiente circostante. Ma questo dimostra che illumina l'ambiente circostanze, ma che c'è molto buio attorno. Quindi va tenuta viva questa fiamma.